Crack Compiano entra nel vivo il processo dell'unico imputato, l'ex patron Luigi Compiano, assente in aula. Processo che a sette anni di distanza dai fatti contestati ha rischiato anche nelle scorse ore di essere ridiscusso, ovvero di tornare all'udienza preliminare, per una contestazione puramente tecnica della difesa con l'avvocato Piero Barolo. Questione legata cioè alla derubricazione del capo di imputazione a carico dello stesso Compiano e riferita all'appropriazione in debita piuttosto che alla bancarotta fraudolenta. Cose tecniche appunto, ma alle 12.23 dopo due ore di discussione della Corte, rigettata la richiesta di eccezione, ovvero sciolta la matassa, e riaperto il dibattimento, finalmente ascoltati i primi testi. Si comincia con l'ex curatore fallimentare, il commercialista trevigiano Sante Casonato. È un fiume in piena. Al PM Massimo De Bortoli racconta del famoso cavo di Silea, dove confluivano tutti i soldi della Ness e delle sue consorelle. Di quella volta che ci sarebbero voluti dieci tir per portare a destinazione ben nove milioni di euro, tutti i monete metalliche, ma poi si scelse la praticità della conversione in moneta digitale. I soldi venivano contati fisicamente dal reparto trattamento valori, dice. Qui, per la conta delle monete, si utilizzava un imbuto gigantesco, con una macchina che le contava e uscite dalla conta venivano automaticamente blisterate e messe su dei bancali per essere consegnate. Dice ancora, storie davvero incredibili, come quella del buco di oltre 30 milioni spariti chi sta dove, tra il lusso di macchine d'epoca e di chi, tra i grossi creditori, è stato più abile del tempo. Storie segreti che tanto ricordano il più famoso deposito a fumetti di Paperopoli della Disney, con Zio Paperone che nuotava nell'oro delle sue stesse monete della serie, quando la realtà supera la fantasia.